Ciao amici del Bosco, oggi vediamo come affrontare la mosca dell'olivo. Mosca dell'olivo non ti temo. La mosca dell'olivo è una delle più gravi avversità che affrontiamo quando vogliamo produrre olio. Anzi, forse è la più grave di tutte perché riesce proprio a rovinare il raccolto, a rovinarci l'olio e quindi annulla tutto il nostro lavoro. In realtà però ci sono tante strategie per affrontarla e contemporaneamente per far crescere olive più buone, olivi più sani. Cristiano, perché la mosca dell'olivo è un problema o sei riuscito a risolverlo? Abbiamo molte strategie da mettere in campo proprio per limitare al massimo i danni che questo dittero può portarci. Allora, innanzitutto dobbiamo conoscere di chi stiamo parlando. Bactrocera ole è un dittero che rappresenta una grande parassita delle olive. Le mosche prediligono l'oliva per deporre il loro uovo. Da questo uovo, dopo circa due o tre giorni, si sviluppa una larva. Nasce una larva. Questa larva inizia incessantemente a mangiare l'oliva dirigendosi lentamente verso l'interno dell'oliva, verso il nocciolo. Compie tre stati larvali e impiegherà indicativamente una ventina di giorni. Successivamente, poi, ha la fase di impupamento in cui si lascia cadere a terra e dopo circa altri otto, dieci giorni, esce l'insetto adulto, l'immagine. Quindi, in base poi anche alle condizioni climatiche e alla zona, in trenta giorni la mosca può completare un ciclo. Purtroppo può compromettere completamente l'oliva perché, ovviamente, iniziano processi di ossidazione e entrano molte anche altri patogeni. Però abbiamo varie strategie. Prima di tutto, però, dobbiamo capire se questa mosca olearia è presente nel nostro oliveto e quindi è possibile fare un monitoraggio. Generalmente, quando troviamo all'incirca dalle due alle tre mosche per trappola, ponendole indicativamente tre per ettaro, già è il momento di iniziare a intervenire e vedremo come. Quando è il momento di mettere le trappole? Con queste condizioni climatiche la mosca sarà presente tutto l'anno nell'oliveto. Quindi noi dobbiamo fare una gestione annuale. Indicativamente, per capire se ci sono i primi sfarfallamenti, interveniamo a maggio, tra maggio e giugno, per fare il monitoraggio. Consideriamo poi che nello specifico il ciclo della mosca olearia ha delle differenzazioni, perché in estate riesce a completare tutto il suo ciclo biologico sull'oliva, ma in autunno e inverno invece può impuparsi e svernare a terra e quindi poi essere attiva l'anno successivo. Quindi il nostro monitoraggio e eventualmente il contrasto deve durare da maggio fino almeno novembre. Quindi in piena fase di raccolta olive. Tra poco andiamo nell'oliveto di Cristiano per vedere tutte le sue strategie per coltivare bene gli olivi. Intanto però impariamo a fare le trappole. Sono molto semplici da fare. Intanto si utilizzano delle bottiglie di plastica, materiale che possiamo riciclare. La cosa che dobbiamo invece acquistare, questo è un suggerimento, sono i tappi di Tap Trap, perché hanno un colore e una forma e anche insomma sono strutturati in modo da essere molto pratici per questa funzione. Li utilizzeremo per tanti anni, quindi sono uno strumento veramente utile. Poi ci servono gli ingredienti per fare la nostra esca attrattiva. Partiamo dall'acqua. Cristiano mi ha preparato anche l'acqua piovana, quella che recupera dal tetto. Perfetta, quindi non abbiamo neppure il cloro. Siamo quasi, penso, sì. Quindi mezzo litro, se avete una bottiglia da un litro e mezzo, calcolate un terzo della bottiglia. E poi il pesce, scarti mi raccomando, non servono le sardine intere, non serve il pesce buono. L'esca comincia subito a funzionare, qui entreranno delle mosche, cadranno qua dentro, anche loro si decomporranno e quindi l'esca si auto-innescherà. Diventerà sempre più efficace proprio per le mosche che sono morte. E quindi mettiamo il tappo che è molto semplice da inserire. Dobbiamo farlo però arrivare fino in fondo in modo che agganci bene. E poi mettiamo una corda, un fil di ferro o qualcosa che ci permette di legarlo. Questo tipo di esca è selettiva. Non vogliamo prendere inserti impollinatori, soprattutto api. E con questo tipo di esca appunto fatta con gli scarti di pesce, dopo diciamo tante ricerche, si è scoperto che insomma il rischio è veramente poco. Vi lascio i link ad alcuni articoli. Tap Trap ha appunto approfondito questo argomento, quindi troverete spiegato perché questa esca è la più efficace. Possiamo anche sperimentare la trappola con i legumi. Ovviamente è un'altra fonte proteica perché la femmina ha bisogno di moltissimi amminoacidi e quindi di moltissime proteine perché deve deporre. Lei riesce a deporre nel suo arco di vita dalle 250 alle 400 uova. Quindi capite che ha bisogno di tantissime energie e quindi questo lo attira moltissimo. Generalmente il dosaggio è sempre mezzo litro d'acqua con all'incirca 4-5 centimetri di altezza di legumi o all'incirca 100-150 grammi. Naturalmente questi sono legumi destinati al consumo umano, però naturalmente possiamo utilizzare la vagliatura della produzione di legumi, quindi lo scarto che non è appetibile, che viene utilizzato generalmente per i mangimi animali. Andiamo a mettere le trappole negli olivi. E' importante anche dove le mettiamo poi le trappole. Le mettiamo ad altezza uomo, quindi sono facili da appendere, non ci creano problemi, la giusta altezza è quella. Le dobbiamo mettere però bene esposte al sole, quindi sud-est, non in mezzo alle frasche, dove siano ben visibili per gli insetti. Adesso cominceranno ad entrare le mosche. Tra una decina o quindici giorni si andrà ad aggiungere un po' di ammoniaca, che poi continueremo ad aggiungere mano a mano che vediamo scendere il liquido. Attenzione anche alle bottiglie di plastica, non sono tutte uguali, è necessario che ci sia una piccola rientranza sul collo della bottiglia perché il tappo si possa agganciare bene. C'è un'alternativa che è vasotrappe, quindi potete utilizzare anche i vasi di vetro che si avvitano sempre con un coperchio giallo e anche quelli sono perfetti per questo uso. Quando arriva la mosca per fare cattura massale bisogna mettere diverse bottiglie. Lungo il perimetro dell'oliveto è consigliabile metterne una per ciascun albero. All'interno invece ne possiamo mettere una ogni due. Le trappoli sono soltanto l'ultimo passaggio per difendersi dalla mosca. La cosa più importante è avere un bell'oliveto. Come sempre l'elemento primario, principale e fondamentale è il suolo. Il nostro scopo è sempre quello di rigenerare il suolo. Dobbiamo sempre interpretare la pianta come espressione del suolo. Quindi un suolo vitale, coperto, ricco. Tutte le potature sono state trinciate in sito e è stato effettuato un primo taglio dell'erba. Adesso, come vedete, c'è una ricca vegetazione e siamo proprio in prefioritura e verrà effettuata una seconda sfalciatura. Questo è importante perché richiamiamo sempre energie dal suolo, lo manteniamo coperto, aumentiamo la fertilità e soprattutto questo ci permetterà di affrontare poi la stagione critica che sarà l'estate. Un terreno vitale veramente ospiterà piante molto più in salute, molto più forti, con una ricchissima vegetazione e quindi piante che sono molto più resilienti rispetto a qualsiasi patologia, anche nei confronti della mosca oleare. Ecco uno spaccato del suolo. Ho dato una forcata casuale, vedete un terreno molto scuro, molto argilloso, ma che si sgretola, ricco di sostanza organica, ricchissimo di vita. E questa è la cosa più importante. E anche con questo sistema di gestione il terreno starà coperto per più tempo possibile. Un'altra accortezza è quella anche della potatura. Noi vogliamo più frasca possibile, più pendiglia in gergo tecnico, anche perché una pianta così ricca di vegetazione ospiterà molti insetti e anche molta biodiversità che contrastano la mosca olearia. Un elemento importantissimo è quella della vifauna, degli uccelli. Gli uccelli adorano moltissimo gli olivi per nidificare e sono degli insettivori incredibili. Quindi avere molti uccelli nel nostro oliveto contribuirà a contrastare, a mitigare la problematica della mosca olearia. Quindi se si fanno quelle potature orribili che lasciano scoperta tutta la parte superiore dell'albero, oltre a far male alla pianta, ci impediscono di avere questa circolazione di uccellini che mangiano gli insetti. Esattamente. Infatti io tutti gli anni trovo costantemente molti nidi nei miei oliveti. Guardando in realtà molti altri olivi, molte altre piante, molte altre zone, purtroppo vedo potature molto intense, moltissime capitozzature e quindi piante molto molto in crisi e soprattutto che non possono ospitare la biodiversità, che è fondamentale per avere un sistema sano. Contro la mosca c'è un'altra strategia fondamentale che si fa questa volta con gli animali domestici. Io ho animali da cortile, galli, galline, oche, anatre, che sono fondamentali. Ruotarli nell'oliveto è una strategia vincente, innanzitutto perché controllano in parte la flora spontanea. Fertilizzano e sono dei grandissimi predatori delle drupe che cadono a terra, soprattutto nel periodo autunnale, che ospitano le larve della moscole aria. Cri, questo è l'oliveto che l'anno scorso avevi pacciamato con mostrato enorme di fieno. Come è andata? Il suolo è stato sempre coperto, pacciamato e ho notato innanzitutto che è aumentata la biodiversità. Il suolo è costantemente umido e tutta questa enorme quantità di fieno si sta degradando ancora oggi e quindi fornirà sempre più nutrienti al suolo e quindi alle nostre piante. Questa è la colorazione che sta avendo il suolo, sempre coperto da tutta questa sostanza organica e sopra cresce una vasta gamma di piante spontanee. Contro la mosca si fanno anche dei trattamenti. Mettendo da parte i veleni che non usi... Assolutamente. Ok, cosa fai? La tecnica migliore dalla mia esperienza e dal mio punto di vista è quella di effettuare dei trattamenti a base di rame. Innanzitutto per disinfettare la pianta dopo la potatura e dopo la raccolta. E anche un altro trattamento quando l'oliva è grande quanto un chicco di caffè. Questo ci permette anche di contrastare i batteri che vivono sulla superficie dell'oliva che aiutano moltissimo la moscoleare a deporre perché gli rendono molto più semplice pungere e deporre l'uovo. Il rame è un metallo pesante quindi va dosato con molta precisione e lo dobbiamo utilizzare come se fosse un microelemento perché in realtà svolge anche questa funzione per gli olivi perché agisce come fertilizzante fogliare. Altri trattamenti che possono essere fatti congiuntamente con l'irrorazione del rame sono prodotti a base di farine di roccia. Il caulino ma anche le farine di basalto sono molto utili perché schermano la pianta riescono a interporre una barriera fisica tra l'oliva e la mosca olearia e inoltre nel periodo di maggior intensità solare in luglio e in agosto anche schermano parte dell'irrigiamento solare che ultimamente sta iniziando a fare molto danno alle piante soprattutto quelle che hanno una minima copertura fogliare. C'è una pianta spontanea che si dice che nell'oliveto aiuta è l'inula viscosa per tua esperienza? Sì confermo io ne ho in diversi apprezzamenti la lascio sempre completare il suo ciclo biologico perché aiuta ospitando dei predatori diretti e indiretti della mosca olearia. Abbiamo già preso delle mosche qua ma non sono mosche dell'olivo come le riconosci? C'è una distinzione da fare tra il maschio e la femmina perché la femmina ha un apparato ovodepositore molto ben sviluppato alla fine dell'addome e hanno una colorazione degli occhi verdastra e nella punta delle ali due macchie nere e soprattutto le zampe e l'addome hanno delle colorazioni tra il giallastro e il rossastro e inoltre sono molto più piccole rispetto a una classica mosca comune. Grazie a TapTrap che ci ha fornito i tappi grazie a Cristiano che ci ha ospitato nel suo oliveto quindi Cristiano in sintesi quali sono le regole da seguire per avere un oliveto sano? Un suolo sano, ricco, fertile e ricco di biodiversità e una grande attenzione agli olivi e soprattutto ai sistemi di potatura. Grazie di aver visto il video lasciateci un like se volete i vostri commenti naturalmente Ciao a tutti! Grazie a tutti